salve a tutti e bentornati sul canale di progettazione nautica oggi come potete vedere parliamo dell'incidente della ever given che come tutti sapete si è incagliata mentre stava attraversando il canale di suez poi è stata disincagliata e adesso è qua questo è un sito che monitora la posizione di tutte le navi e adesso la ever given è qua cioè praticamente sul secondo tratto del canale di suez e poi dovrà uscire dal canale di suez passare le gibilterra e arrivare a rotterdam in olanda dove era attesa per il 31 marzo e quindi chiaramente è molto in ritardo come potete vedere la rotta che passa per suez è veramente molto intasata adesso perché c'è stato questo incidente ma in generale perché chiaramente l'alternativa è passare a sud dell'africa circunnavigare l'africa e quindi perdere un sacco di tempo e tantissimo e spendere tantissimi soldi in più di carburante e quindi chiaramente tutti passano di qua se devono andare in nord europa come sapete tutti la ever given si è incagliata e ci sono voluti diversi giorni per disincagliarla si è detto che questo il ritardo ha causato una perdita in generale di una decina di miliardi di dollari adesso è disincagliata e affronterà è qui e affronterà quindi la seconda parte del canale di Suez dove si presuppone che venga rimorchiata da dei rimorchiatori per evitare altri incidenti perché ne parliamo io mi sono divertito a fare due calcoli e a capire la forza del vento come agito sulla nave perché la nave si è incagliata a causa di di un fortissimo vento e quindi che la spinge che la spinta lateralmente e l'ha fatta andare contro un una sponda del canale ecco qua la questa era la situazione della ever given della della compagnia ever green che si è incagliata con la prua su un lato del canale ostruendolo completamente poi c'è stato bisogno di rimorchiatori di scavi qui a prua e via discorrendo per poter disincagliare la nave la nave la nave è lunga quasi 400 metri ed è con i container è alta una quarantina di metri quindi divertiamoci a capire come agito il vento e quali sono le forze in gioco ecco qui la nave vista lateralmente quindi abbiamo detto che questa dimensione è circa 400 metri e questa dimensione è circa 40 metri questo è il l'area che ha offerto al vento poi questa dimensione la larghezza è circa 60 metri ma non ci nel punto massimo ma in questo caso non ci interessa supponiamo che ci sia stato un vento laterale che l'abbia spinta e nonostante abbia due boat raster non è più riuscita a manovrare vediamo un attimo le forze in gioco il calcolo da fare è in realtà molto semplice perché prendiamo la formula della resistenza di un solido esposto a un fluido in movimento che è quella che abbiamo visto tante altre volte quando abbiamo parlato di lift e di drag di un corpo e la diciamo così adattiamo al nostro caso quindi la forza di drag è uguale a un mezzo per rho densità dell'aria velocità al quadrato velocità del fluido al quadrato coefficiente di drag coefficiente di resistenza area un mezzo 0,5 un numero rho è la densità dell'area dell'aria quindi è 1,9 kg a metro cubo cd in questo caso lo possiamo identificare prendendolo da questa tabella in 1,05 che è quello insomma delle forme tipo cubo insomma se pensiamo a questa alla nave come un solido squadrato quindi un parallelepipedo diciamo che questo qua ci va abbastanza vicino insomma la sezione della nave e per l'area allora quindi qui abbiamo detto questa è la velocità del vento che io ho espresso in nodi in chilometri all'ora o in metri al secondo ma insomma sempre la velocità è densità dell'aria abbiamo detto 1,29 kg a metro cubo cd 1,05 la nave è lunga 400 metri ed è alta 40 quindi 16.000 metri quadrati forza in newton o in chilogrammi quindi vedete qua se clicchiamo la formula è velocità in metri al secondo al quadrato per il rho densità dell'aria per cd per metri al quadrato diviso 2 vedete in fondo è diviso 2 e vediamo che siccome la velocità è espressa al quadrato chiaramente l'incremento come abbiamo visto tutte le volte è esponenziale e si va da una forza totale di 85 kg quindi nulla quando il vento è a mezzo nodo poi saliamo saliamo vedete a io ho fatto un incremento di 5 chilometri all'ora per non fare tutti tutti gli step a un nodo diciamo quindi diciamo a 2 nodi e 7 sono già 2.000 kg e poi via via cresce in maniera enorme a 21 nodi qua siamo qua 21 nodi e mezzo sono già 136 tonnellate di spinta laterale e a 40 nodi velocità che c'era in quel momento velocità del vento presente al momento dell'incaglio sono 480 tonnellate 480.000 kg quindi 480 tonnellate di forza laterale quindi una forza spaventosa che ovviamente ha reso impossibile controllare la nave che non aveva rimorchiatori di assistenza probabilmente perché all'inizio non c'era così tanto vento quando ha imboccato il canale poi le raffiche sono diventate sempre più potenti e quando la nave è andata fuori controllo chiaramente non c'era tempo di agire in nessuna maniera la Ever Given ha due boat thruster di prua da 2500 kilowatt l'uno però come sappiamo tutti i boat thruster funzionano molto bene in assenza di vento con nave ferma servono a manovrare all'interno aiutare la manovra all'interno del porto con nave in movimento i boat thruster riducono fortemente la loro efficienza anche del 40% perché chiaramente diciamo così la componente la forza che loro esprimono si somma vettorialmente con la velocità della nave e quindi l'efficienza diminuisce diciamo così quindi questo qui era solamente così un divertimento per vedere quali erano le forze in gioco chiaramente avendo una superficie enorme la superficie sposta al vento enorme e come ricordavo prima siccome nella formula la velocità del fluido del vento in questo caso è al quadrato le forze vanno completamente fuori controllo vedete che dai 30 ai 40 nodi le forze passano da 257 tonnellate a 480 e quindi chiaramente va tutto fuori controllo ed è impossibile è impossibile qualsiasi tentativo di manovra e poi chiaramente il vento bisogna considerare che non ha una direzione costante se fosse di prua va bene sarebbe un ostacolo alla velocità della nave ma siccome è laterale chiaramente espone la nave a una superficie enorme la superficie esposta al vento è enorme e scarroccia lateralmente la nave e non lateralmente in maniera parallela al moto ma chiaramente siccome avrà un angolo questo vento sposterà la prua e la poppa in maniera diversa quindi rendendo impossibile la gestione della nave va bene questo è tutto quello che volevo dire per oggi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a mettere un mi piace a questo video e a lasciare un vostro commento sugli argomenti che vorreste vedere trattati sul canale o vi invito a proporre vostri argomenti nel senso esperienza che avete fatto riguardo alla nautica in tutti i suoi aspetti a presto e al prossimo video